Ciao a tutti e benvenuti a Zampamiche. In questo video vedrete una ripresa di un cane che è stato tinto. Questo video proviene dall'Indonesia in particolare e può sembrare una cosa graziosa, però in questo video andrete a vedere i rischi che corre il cane se magari pensate di colorare il suo pelo. Quindi vi auguro una buona visione. Condividete questo video e grazie per la visione in anticipo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci sentiamo poi alla prossima. Segui con molta attenzione a questo video. Colorare il pelo del cane può sembrare un'idea divertente, ma ci sono diversi rischi associati che dovresti considerare prima di farlo. 1. Tossicità dei prodotti chimici, reazioni allergiche. Molte tinture contengono sostanze chimiche che possono essere irritanti o tossiche per la pelle del cane. Questi prodotti possono causare reazioni allergiche, che vanno da irritazioni cutanee a gonfiori e prurito. Ingestione accidentale. I cani tendono a leccarsi spesso, quindi c'è il rischio che il cane ingerisca la tintura, il che potrebbe causare problemi gastrointestinali, vomito o, in casi estremi, avvelenamento. 2. Stress e ansia. Processo di applicazione. I cani non sono abituati a stare fermi per periodi prolungati e l'applicazione della tintura potrebbe causare stress o ansia. Il rumore e l'odore della tintura potrebbero anche spaventare il cane. Cambiamenti di comportamento. Alcuni cani potrebbero non riconoscersi dopo la colorazione, il che potrebbe causare confusione o alterazioni nel comportamento. 3. Problemi dermatologici. Irritazioni della pelle. La pelle del cane è molto più delicata rispetto a quella umana. L'uso di tinture può causare irritazioni, arrossamenti, desquamazioni e persino ustioni chimiche in casi gravi. Infezioni. Se la pelle del cane si irrita o si lesiona durante il processo, si può sviluppare un'infezione, soprattutto se il cane si gratta o morde l'aria interessata. 4. Interferenze con il pelo naturale. Fragilità del pelo. Le sostanze chimiche possono indebolire il pelo, rendendolo più fragile e incline alla rottura. 4. Caduta del pelo. L'uso di prodotti non adatti potrebbe provocare una caduta eccessiva del pelo, con conseguenti problemi di diradamento o alopecia. 5. Problemi respiratori. Fumi chimici. L'inalazione dei fumi della tintura può causare irritazioni alle vie respiratorie del cane, specialmente se il cane ha già problemi respiratori preesistenti. 6. Impatto psicologico. Reazioni di altri cani. I cani comunicano anche attraverso il loro aspetto. Cambiare drasticamente l'aspetto del tuo cane potrebbe alterare il modo in cui viene percepito dagli altri cani, potenzialmente causando problemi sociali. 6. Rifiuto del cane. Alcuni cani potrebbero sviluppare un'avversione verso i prodotti per la colorazione dopo un'esperienza negativa. 7. Spiratorie del cane. Specialmente se il cane ha già problemi respiratori preesistenti. 7. Possibili complicazioni a lungo termine. 8. Effetti cumulativi. Se la tintura viene utilizzata regolarmente, gli effetti tossici potrebbero accumularsi, causando problemi di salute a lungo termine. 8. Non conformità legale o etica. Leggi locali. In alcune regioni, colorare il pelo degli animali potrebbe essere considerato maltrattamento e ci potrebbero essere leggi che lo vietano. Raccomandazioni. Se decidi comunque di tingere il pelo del tuo cane, è fondamentale usare prodotti specificamente formulati per animali domestici. Effettuare un test allergico su una piccola area del corpo e consultare prima un veterinario per assicurarti che non ci siano rischi significativi per la salute del tuo cane. Excuse me. scusami 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 no 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 excuse me hello bye 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.